La prima neve del 2017 è arrivata anche in città, imbiancando tetti, strade ed auto. Nella serata di giovedì, infatti, i primi candidi fiocchi sono scesi anche ad Arezzo. Si è trattato unicamente di una spolverata, ma che per qualche ora ha creato una magica atmosfera nel centro città e nelle periferie alle porte di Arezzo. La neve invece si è fermata in Valtiberina, a Palazzo del Peru, una coltre bianca già nel pomeriggio di giovedì aveva ricoperto tutto il pasaggio. Nessun disagio fortunatamente registrato nella serata di giovedì a causa della breve nevicata, come confermato dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco. Permane invece l'allerta per il gelo e per il ghiaccio. I mezzi spargisale e spalaneve sono già a lavoro sulle strade dell'Aretino. Con l'abbassamento delle temperature nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino potrebbero formarsi lastre di ghiaccio sulle strade. Per questo il servizio viabilità della provincia raccomanda la massima prudenza agli automobilisti. Le temperature nei prossimi giorni resteranno rigidissime ovunque sotto lo zero in gran parte della provincia.